Il vice ministro all'economia Laura Castelli alla tre giorni Alice serve coraggio per la competitività delle imprese in Europa indispensabile ridurre la pressione fiscale. Vice ministro insomma la scommessa sono le riforme, ripartenza senza riforma vuol dire fallimento, si riuscirà all'interno del governo che è una composizione molto variegata ad avere la lucidità di evitare il conflitto tra i partiti. Sì, ha ragione, se non si ha quella grande dose di coraggio per fare queste riforme è inutile continuare a dire abbiamo tanti soldi, penso sarà possibile perché il presidente ha un grande stimolo su questo, non ci si può perdere nelle derivazioni politiche di una maggioranza così ampia che insiste. Questo è un momento storico dove tutti hanno capito che serve fare ciò che non è stato fatto prima e questo settore, questo cluster, perché più che un settore rappresenta proprio questo, quando hai 70 miliardi di gap rispetto alla logistica nel resto del mondo come Paese Italia ti chiedi perché non ci hanno messo quel coraggio che serve. quindi io penso che questo sia il lavoro vero da fare e questa opportunità di sentire tutto il settore ci permette di maturare per chi ancora magari pensava di averne poco quella dose di coraggio che storicamente siamo chiamati a mettere. Il mondo dell'impresa ovviamente va dritto al cuore, riforma fiscale. Sulla riforma fiscale si riuscirà finalmente ad andare a quella parolina magica, ovvero riduzione dell'impatto fiscale sul mondo delle imprese? Sì, bisogna fare ancora molto, non è solo l'IRAP su cui bisogna intervenire, ridurre la pressione fiscale delle imprese significa metterle allo stesso livello di concorrenza del resto del mondo e per fortuna siamo in un momento storico nel quale tutto il mondo si sta confrontando sul fisco in maniera importante, ragionando su quei principi e quelle storture di un sistema che non ha permesso ad alcune parti, come quello che oggi è qui rappresentato, che rappresenta moltissimo PIL in Italia, che non può spiccare il volo rispetto ad altri paesi perché ha delle zavorre. Senta, un'ultimissima fotografia, lei si trova balzata improvvisamente nel 2026, che Italia trova? Beh non è così lontano il 2026, se mi dice guardiamo al 2050 o al 2040 trovo un'Italia che ha lasciato a terra quelle zavorre che dicevo e che ha capito che quelle zavorre erano ideologie politiche che non hanno permesso al paese più bello del mondo di volare alto e quindi se guardo al 2050 e 40 vedo un'Italia che è la più bella del mondo ma lo è anche perché ha avuto il coraggio di fare la sua rivoluzione.